Prima di iniziare a guardare il video vi ricordo se non lo siete già di iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche lasciare un like e leggere sempre la descrizione del video benvenuti tutti ragazzi in questo nuovo video di algoritmi flowchart abbiamo quindi parlato delle basi delle variabili di input e output assegnazione e tipo di dato adesso passiamo quindi alla prima struttura di controllo che è la struttura if ed else apriamo il nostro algo build e parto dicendo che la struttura di selezione if permette quindi di controllare la veridicità di una determinata condizione e dividersi poi in due strade nel caso essa sia vera o nel caso sia falsa facciamo un esempio pratico se io dovessi fare una condizione dove dico che 7 è maggiore di 5 avrei due strade nel caso sia vera e nel caso sia falsa nel caso sia vera ci saranno le istruzioni che andrò a programmare nel caso sia falsa nella stessa maniera ci saranno altre istruzioni dipende sempre dai casi in questo specifico caso 7 maggiore di 5 è vero quindi prenderò quella determinata ramificazione che consiste nel vero andiamo quindi a vedere in new if e qua dentro si mette la nostra condizione che come ho detto facciamo un esempio 7 maggiore di 5 e facciamo ok come vedete si è creata una doppia ramificazione di vero e falso nel vero scriviamo un output dove andiamo a dire che la condizione è vera mentre nel falso andiamo a mettere che la condizione è falsa abbiamo il nostro flow chart e come vedete andrà all'interno della nostra condizione dove controlla se 7 è maggiore di 5 e poiché è vera noi visualizzeremo l'output la condizione è vera e poi finirà il flow chart all'interno della condizione si possono benissimo gestire anche variabili io ho utilizzato due valori numerici in questo momento per essere un pochino più pratico ma come possiamo andare a vedere magari andiamo a fare un input dove andiamo a inserire due valori valore 1 e valore 2 e dopodiché controllare se valore 1 è maggiore di valore 2 abbiamo il nostro flow chart inseriamo il valore 1 e mettiamo 9 inseriamo il valore 2 e mettiamo 3 quindi come vedete in basso a destra le variabili contengono dentro il valore 1 il valore 9 e dentro il valore cioè variabile val 2 conterrà il valore 3 controllerà la condizione quindi se 9 è maggiore di 3 e in questo caso è vera nel caso dovesse essere stata falsa prenderà ovviamente l'altra ramificazione quella del falso nei linguaggi di programmazione questa struttura viene chiamata if ed else dove if corrisponde quindi al rombo dove è presente la condizione e nel caso sia vera eseguirà appunto la ramificazione del true l'else significa altrimenti e corrisponde alla ramificazione del falso quindi a livello logico noi stiamo dicendo se valore 1 è maggiore di valore 2 allora fai questo altrimenti esegui quest'altra parte questa è la nostra condizione logica all'interno delle due ramificazioni noi possiamo mettere tutte le condizioni che vogliamo o che meglio ci possono servire facciamo un altro esempio io voglio vedere adesso quanto è il valore 1 e quanto è valore 2 quindi nuovo output e andiamo a mettere val 1 e val 2 eseguiamo la condizione richiede due input quindi 5 e 1 ed essendo vera noi visualizzeremo quindi come vedete in basso a sinistra sia l'output della condizione è vera e sia l'altra output di val 1 e val 2 quindi possiamo mettere un qualsiasi numero di istruzioni noi vogliamo a volte all'interno delle due ramificazioni basta semplicemente mettere determinate istruzioni che ci sono necessarie non mettere tutto quanto il programma per poi finire nell'end perché comunque se io volessi potrei fare questa cosa qui togliere questa parte e mettere qui output e mettiamo val 1 e val 2 cosa cambia tra questa cosa qui che abbiamo visto ora e quella di prima cambia che mettendo l'output nella ramificazione vera verrà solamente visualizzato quell'output nel caso la condizione sia vera messo al di fuori dell'if come vedete verrà eseguita questa istruzione sia se fosse stata falsa sia se fosse stata vera perché le ramificazioni una volta finite si congiungono entrambe per continuare ugualmente il nostro algoritmo quindi proviamo un attimo a eseguirlo mettiamo 7 e poi 2 andiamo avanti visualizziamo il nostro output e dopodiché visualizzeremo come valori 7 e 2 è la stessa identica cosa proviamo a fare il contrario mettiamo 4 e 8 vedremo appunto che la condizione è falsa e dopodiché rivedremo ugualmente i due valori in output 4 e 8 perché è al di fuori del nostro if all'interno di un if comunque si possono fare anche assegnazioni richiedere input insomma si possono fare tutti i tipi di istruzioni che esistono e si può creare appunto anche il famoso else if l'else if si fa nella parte del falso generalmente e in pratica consiste nel dover rimettere un altro if dove si creerà una condizione alla fine e poniamo di nuovo che ne so che valore 1 sia uguale a 0 dove anche lui avrà le sue due ramificazioni vero e falso attenti in questa maniera qua come vedete a destra noi vediamo un semplice if e poi un else in maniera lineare ovvio che il concetto di else if è leggermente diverso perché l'else if si gestirebbe in questa maniera ed ecco qui poiché io nel flowchart non ho una vera e propria istruzione di else if questo è quello che io in realtà ho inteso ovvero io controllo se valore 1 è maggiore di valore 2 e nel caso sia vero eseguirà le sue istruzioni nel caso questa condizione non sia vera quindi sia nella parte del false andrò poi a controllare con un altro if che valore 1 sia uguale a 0 ed eseguirà nel suo caso fosse vera le sue istruzioni altrimenti eseguirà queste altre e come vedete appunto il vero eseguirebbe quella istruzione lì quindi dove mettiamo il valore 1 è 0 altrimenti nel false possiamo andare a mettere non è 0 state attenti di nuovo che le ramificazioni possono essere lunghe quanto vogliamo quindi all'interno del nostro if che è presente all'interno di un altro if più grande possiamo lo stesso andare a inserire un altro if all'interno del nostro else if e a sua volta se è vero risulterà eseguire eseguirà questa parte qui se è falso invece eseguirà quest'altra gli else if corrispondono sempre a degli if presenti nella parte del falso quindi se io avessi creato un if da questa parte non sarebbe minimamente un else if perché corrisponderebbe a ben altro corrisponderebbe a questa cosa come vedete c'è stato l'if iniziale valore 1 deve essere maggiore di valore 2 all'interno nel caso sia vero è presente un'altra if dove avrà una sua condizione che adesso non specifico perché non è importante nel caso sia vero avremo quindi l'esecuzione di queste istruzioni altrimenti eseguiremo quest'altro ma questo qui non è un else if è soltanto un if normale un if else normale all'interno della condizione vera dell'if se dovessimo volere un else if dovremmo comunque lavorare sulla parte falsa quindi della prima condizione la parte falsa che era già inizialmente un else andremo a creare una nuova condizione questa è un else if non questa qua a sua volta però se noi in questa if qui mettessimo un'altra condizione qua dentro risulterebbe questa cosa qua ovvero che si è creato un else if perché come vi ho detto è sul falso avente la sua condizione e poi il suo else quindi le ramificazioni lavorano in questo modo nel vero non si va a creare un altro else if ma si può creare un altro if che a sua volta potrebbe contenere un else if mentre nella parte del falso andando a mettere una condizione ulteriore saremo andati a creare un else if ovviamente se subito dopo c'era il falso si presentava la nostra condizione if se avessimo messo prima un'altra istruzione quindi un output per esempio non avremmo più avuto un else if perché non era diretto ma sarebbe stato quindi un if normale all'interno del nostro false mentre se direttamente non c'è nulla quindi la linea è diretta dal falso a un'altra condizione si chiama else if altrimenti non lo è e diventerebbe una condizione normale come lo era da quest'altra parte sarebbe stato un altro if normale all'interno del primo else soltanto faccio inoltre una precisazione ovvero che quando si crea un if non è necessariamente obbligatorio andare a creare delle istruzioni all'interno dell'else e tantomeno andare a creare degli else if dipende tutto dal programma che dovete creare e dalle condizioni che vi servono facciamo un esempio nel quale voi inserite un numero in input e poi in output vi dovrà ridare quel numero in positivo quindi che voi abbiate inserito un numero negativo diventa positivo e se è positivo rimane positivo in questo caso non serve minimamente che si vada a inserire un else perché automaticamente basta vedere che se il valore inserito è negativo allora semplicemente moltiplichiamo per meno uno il valore quindi valore uguale valore per meno uno senza andare a creare un else perché tanto noi sappiamo che è già positivo nel caso sia falsa questa condizione dopodiché mostriamo in output il valore eseguiamo l'algoritmo input richiesto mettiamo meno otto e come vedete appunto dato che la condizione era falsa e il valore era negativo sarà stato moltiplicato per meno uno e poi ci restituirà in output il valore in positivo ovvero otto se invece avessimo messo direttamente un valore positivo non sarebbe appunto cambiato nulla perché sarebbe andato sul falso ma non esiste un vero e proprio else quindi direttamente passa da questa parte e ci mostra il nostro otto detto ciò bisogna semplicemente fare un po' di confidenza con tutte queste ramificazioni di else if ed else if se avete comunque dubbio o qualcosa che volete che io chiarisca fatelo nei commenti dove vi risponderò tranquillamente ora facciamo un semplice esercizio dove ci richiede l'uso di if ed else iniziamo quindi con new e chiediamo in input la nostra età quindi scriverò età ovviamente senza la accentata perché una variabile non può prendere quei caratteri speciali lì quindi vorrei evitare determinati errori ma su un foglio di carta se volete potete anche scriverlo con la a accentata poco vi cambia facciamo new mettiamo l'if dove controlliamo che prima l'età effettivamente esista quindi che sia maggiore o uguale di zero perché un'età minore di zero non può esistere quindi qui avremo una voce di output che ci dirà errore l'età non è corretta e facciamo ok nella parte vera invece possiamo analizzare più cose che in questo caso vorrei fare ovvero creare un nuovo if dove definisce che se l'età è maggiore o uguale a 18 allora sono maggiorenne altrimenti sono minorenne quindi output 6 maggiorenne e nell'else scriveremo output 6 minorenne perfetto questo qua quindi è il nostro flowchart che una volta inserita l'età ci dirà se l'età non è corretta nel caso sia minore di zero ma se maggiore o uguale di zero a sua volta ci dirà se siamo maggiorenni o se siamo minorenni in pratica queste ramificazioni chiedono un if normale come vedete in questa parte a destra con un else dove nell'else c'è il messaggio d'errore e all'interno dell'if della parte del vero c'è un altro if quindi questo non è un else if se questo fosse stato a sinistra dove magari era direttamente collegato la parte f del false allora sarebbe stato un else if dopo in caso vi modifico questo stesso flowchart per far sì che questo diventi un else if dall'altra parte ugualmente da questa parte true si creerà quindi un nuovo if che controlla se l'età è maggiore o uguale a 18 nel caso sia vera io sono maggiorenne altrimenti else quindi sono minorenne dopodiché tutti i punti si ricongiungeranno per finire il nostro algoritmo avviamola scriviamo appunto l'età andiamo avanti lui ha controllato se è maggiore o uguale a 0 ed è vero adesso farà un altro controllo dove guarderà se è maggiore o uguale a 18 ed è vero allora io sono maggiorenne e dopodiché sarà finito il programma nel caso invece avessimo voluto creare un else if avremmo dovuto mettere la condizione al contrario ovvero controllare se prima l'età era minore di 0 nel caso fosse stato vero dire che l'età non era corretta in altrimenti quindi nell'else si sarebbe creata una condizione ulteriore però diretta dove appunto questa sarebbe risultata un else if quindi if età minore di 0 esegue questa parte se è vera else if età maggiore o uguale di 18 esegue questo se è vero else di questo specifico if 6 minorenne se invece avessi avuto una qualsiasi istruzione prima di questo if nell'ambito dei se invece avessi avuto una qualsiasi altra istruzione prima di questo if quindi facendo new e avessimo messo un output qualsiasi o un input o un'assegnazione non sarebbe stato più un else if ma un if indipendentemente dal false di prima quindi non sarebbe stato collegato minimamente ovvio che il risultato comunque sarebbe lo stesso però a livello tecnico capirete che nei linguaggi di programmazione cambia se volete magari fare qualche esercizio di flowchart utilizzando esercizi di programmazione che potete benissimo mettere in sottoforma di algoritmo utilizzando i flowchart andate su questo sito alfabeto nella sezione informatica esercizi di programmazione e scegliete selezione che sono quelli per gli if fate un po' di esercizi su questa parte qui e dopo se comunque avete dei dubbi o altre cose chiedete sempre nei commenti che cercherò di rispondervi il prima possibile se questo video qua vi è piaciuto lasciate un like noi ci vedremo alla prossima lezione se non siete iscritti iscrivetevi seguitemi su telegram e su instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao